Con noi oggi è cofuturo Stefano Vignaroli, personaggio ambiente 2014, già attivista nelle battaglie per la discarica di Malagrotta, oggi deputato e vicepresidente della commissione ciclo illecito e rifiuti. Allora, ci puoi parlare un pochettino di quello che state proponendo, cercando di portare avanti alla Camera? Ho cercato di tradurre la mia esperienza prima che riguarda l'autoproduzione e la riduzione dei rifiuti a monte, che facevo a casa e mi ricordo che era difficoltoso, soprattutto poi quando si andava a fare spesa, perché siamo in un mondo dove i rifiuti se ne fanno in abbondanza e inutilmente. E quindi nella proposta di legge che abbiamo presentato nel Movimento 5 Stelle, la mia prima firma, l'abbiamo chiamata rifiuti 2.0, cerchiamo di mettere proprio questi che sono i principi della direttiva 98-2008 europea. Innanzitutto la prevenzione, quindi quello è il nostro cavallo di battaglia, che forse è quello che dà più fastidio, perché noi vogliamo una vasca sempre piena e se fa acqua da tutte le parti, la ricetta che dà il sistema economico basato sul PIL non è quella di tappare i buchi ma di aumentare il getto dell'acqua per avere la vasca sempre piena. Quindi ridurre i rifiuti dà fastidio. Noi abbiamo proposto il voto a rendere, è stata approvata la Camera con molta fatica e adesso è fermo al Senato. Quindi in questa proposta di legge ovviamente c'è anche questo. C'è la riforma del mercato dell'usato che è un settore che produce 15 milioni di metri cubi meno l'anno di rifiuto. E in più, soprattutto per quanto riguarda il mercato del riciclo, prevede una forma di abolizione del CONAI e soprattutto quella di superare un po' il concetto di raccolta differenziata, perché spesso non è di qualità. La raccolta differenziata spesso viene anche incenerita, quindi non è sinonimo di riciclo. E quindi cosa proponete al posto della raccolta differenziata? Cambiare i parametri e puntare all'effettivo recupero di materia prima-seconda, quindi la percentuale di recupero materia. Ci sono tutte delle azioni e proposte di legge che vanno verso quella direzione, che è il recupero di materia, non di energia e neanche lo smaltimento, per sfavorire anche lo smaltimento, perché se do gli incentivi per esempio agli inceneritori e non do magari l'iva agevolata a chi produce materia rigenerata, c'è una concorrenza sleale. Comunque sempre attraverso la raccolta della porta a porta spinta? Quello è poco insicuro, la tariffazione puntuale. Sono tutti principi che non ci siamo inventati noi, ma li mettiamo nero su bianco rafforzandoli. Avete il nostro appoggio.